Musica Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale Qui con voi Valox e oggi sono qui per portarvi un nuovo video su Rainbow Six Questa volta però, a differenza dei precedenti video, dei precedenti episodi Sono solo ragazzi, perché io voglio provare a fare appunto un video Ho sbagliato classe, che cosa avrò preso? Vabbè, dicevo sono solo perché voglio provare a fare un video di questo tipo solo io Solo io e voi in pratica E credo che non sarà una cosa malvagia Perché comunque sarà un modo per essere diciamo più nel vivo del gameplay Quindi una cosa un po' più carina Sono arrivato a livello 20 però prima di giocare in classificata Voglio avere una squadra E ora sono solo quindi preferisco fare ancora libera E mi ha appunto bloccato come avete visto gli operatori Non so se è una cosa normale, me li ha bloccati raga, vabbè Comunque Ok raga, non ho trovato l'ostaggio Non lo faccio in tempo raga, è troppo lontano, vabbè La nascondo qui se riesco Vabbè, ok Ho sbagliato classe, ho il pompa Bene, ottimo Allora L'ostaggio è proprio qui Bravi che hanno distrutto subito la telecamera e gli alleati Possiamo subito esplodere questo Ho già distrutto una loro trappola E poi rompiamo anche questa E ne ho distrutto un'altra raga Ok col feud un'alleata ha fatto fuori un nemico Siamo uno in meno tra l'altro raga Perché Uno dei nostri ha acquistato Ok ne ho visto uno Headshot Mamma mia No Mi ha distrutto raga Ma che cazzo ha Mi ha fatto headshot anche lui per forza Cazzo mi ha one bombato di brutto Minchia Mi ha dato headshot durissimo Non dovevo stare covacciato Vabbè una kill l'abbiamo fatta raga Siamo 3v3 Attenzione Andiamo ad osservare subito Il nostro amico Ok fa la kill 3v2 raga E vincono Così Vincono Hanno preso l'ostaggio Hanno preso l'ostaggio Ottimo Bene raga E se mi rimuovo il 5 perché Che cazzo è buggato Ma perché Cosa sta succedendo Oh Si era buggato a caso Tutte a me queste cose Allora Sapete che faccio io Io non campero più Perché ho capito Cioè mi avete spiegato Che non ha senso Adesso uso la pistola Per distruggere I Le macchinine Così non spreco colpi Dell'arma primaria Oh È veramente un casino Ok Ottimo così Ok stanno arrivando Raga Io mi campero qua sotto Sapete Non è morto ancora nessuno Si sparano Grande l'alleato Che ha fatto la prima kill Qua non c'è nessuno Vabbè io mi sposto raga Sono inutile messo lì Mi sa Che stanno sfondando qui Devo dare supporto Raga sono nel panico Stanno entrando Io sto qui Ragazzi Stanno sparando a mille cose Madonna Che situazione Vaffanculo Sono un idiota Ma vaffanculo Ma c'era un tipo Camperato qui Che palle Madonna Ho fatto una cazzata Ho distrutto anche i gadget Rimane uno V2 Chissà se ce la fa Verso L'ha ucciso Non capisco perché Non esce Tanto c'è Il L'ostaggio è fuori ormai Perché è un voto Per rimuovere palco Chi è che vota Per buttarlo fuori L'ha visto L'ha visto Adesso il nemico Sa dove Ma dove è finito Raga Ma cosa sta succedendo E' proprio un genio Questo comunque E' tornato dentro Così il tipo Ha visto che era tornato dentro E l'ha preso Va bene Un applauso Comunque ora ci impegniamo Raga e cerchiamo di vincere Ok raga Situazione di 1 a 1 Dobbiamo cercare di vincere Portarci a casa A questo round Senza una squadra E' veramente difficile Giocare a questo gioco Io intanto Sono spawnato a caso In un punto di merda Ottimo Cerchiamo di raggiungerlo Eh pochi secondi Ok Spotto questo intanto Marlando distrutto Fanculo Vediamo cosa riesce A fare questo qua Niente Ok Perfetto raga C'è proprio qua davanti Guardali Guardali E' molto scontata Quello che sto per fare Però va fatto Rompiamo L'ho visto Let's go Secondo me Cazzo 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 Ammazzalo palco Ammazzalo Grande No no raga Ma ce l'avete lì E vincono Così L'ho distratto raga Il mio ruolo è stato quello di distrarlo E abbiamo vinto il round Vero così Cazzo che mossa Che mossa Oh non lo ammazzavano però Era lì che mi sparava Nessuno se lo calcolava Va bene Ottimo Siamo 2 a 1 Bene raga Potrebbe essere un decisivo questo Potremmo portarci a casa la vittoria Ragazzi secondo me arrivano subito da qui Ve lo dico proprio instant Rompono da qua raga Me lo sento Non so se si possa rompere però Sì Guardali Guardali Oh non deve No raga Non muore Muori Mi ha tolto pochissimo di vita Ok Possiamo pure richiudere Siamo 4v3 Siamo questo Ok Qua ho già barricato Qua è tutto chiuso Ottimo Proveranno ad arrivare da sopra Secondo me E io mi piazzo qua Stanno sparando al nostro amico È morto Faccio un giro Faccio il giro e li prendo da dietro Non se l'aspettano questa cosa Cazzo mi hanno spottato Merda 2v2 Cazzo raga Mi son perso Ci credete Sento un sacco di rumori Ma dove cazzo Dove cazzo Ciao bello 2v1 raga Salgo su per essere un po' più Per avere una visione un po' più completa Da qua Qua c'è anche un cadavere Oddio ho dato un pugno al microfono Come al solito Mi stanno spottando Cazzo è vero Qua c'è la telecamera Mi ha spottato anche prima Gattono Perché se no mi sente Sto così Nessuno sta difendendo l'ostaggio Però è Sta morendo Sta morendo E vince L'ha spaccato Bella Bella partita raga E niente Io spero che questo video Vi sia piaciuto Fatemi sapere cosa ne pensate Di questi video in solitaria Senza appunto qualcun altro Da solo così Lasciate un bel like E noi ci becchiamo ragazzi Al prossimo video E il prossimo di Rainbow Sarà in classificata Quella appunto un po' più complicata Con un full team E niente Ci becchiamo Al prossimo video Bella raga Ciao